Ciao Michele, cartablet per la tua Volkswagen, è arrivato 9 pollici, top di gamma, Android 10, 4 giga di RAM, ROM 64 giga. Avrai il check in veicolo, una volta collegato in macchina, gestione e apertura sportelli, carburante, voltaggio, freno a mano, queste sono le informazioni, che si attiveranno tutte in automatico. Qui siamo su Google, qui siamo su Maps, potrai eseguire anche lo split screen, potrai cambiarlo, potrai aggiungere varie app, chiudiamo. DSP, elaboratore sonoro, dove potrai settare tutte le impostazioni sound della macchina. Ovviamente adesso c'è la pellicola protettiva, che poi tu andai a togliere una volta che hai eseguito la lavorazione. Se ti occorre assistenza, ti daremo anche noi un aiuto. Questo è il prodotto, potrai personalizzare anche la home, andando su impostazione, display, sfondi. E poi ti potrai divertire, selezionare lo sfondo che vuoi. Un saluto e poi ti inviero la traccia a vita.